che succede adesso non lo so bene non c'è il sonoro io non sono mai stato un grosso esperto di storia comunque da un po che va avanti così invasioni devastazioni saccheggi alcuni sembrano francesi gli altri non ne ho idea ieri ero in chat con un mio amico che vive in giappone mi ha confermato che anche lì sta succedendo la stessa cosa ovvio il lo spettacolo è diverso appare quello che riguarda il loro paese perché perché succede succede tutto questo perché e non torni a casa silvia sarà preoccupata non importa non importa è tuo figlio ma perché 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 sta succedendo questo che significa non l'hai capito tu davvero non l'hai ancora capito